Ci troviamo con la dottoressa Fiammetta Inga. Il mondo dell'adolescenza è un mondo complesso, non sempre riusciamo a cogliere bene i segnali che i nostri figli ci inviano. Cosa possiamo consigliare loro per non arrivare poi a delle patologie molto serie? L'argomento dell'adolescenza è scottante, se mi si consente. L'adolescenza è già un periodo di per sé problematico. Il ragazzo lascia un'identità, ne acquisisce un'altra e in questa fase di transizione delicatissima originano per l'appunto gran parte dei disturbi psichiatrici di cui prima abbiamo parlato. Al giorno d'oggi sicuramente c'è un grande allarme sui disturbi del comportamento alimentare che proprio si originano addirittura nella preadolescenza, come abbiamo studiato negli ultimi tempi, ma che si prolungano fino ad un'età adulta abbastanza avanzata. Un consiglio da dare ai genitori, osservate molto l'adolescente perché oggi la scuola copre relativamente, la società è dura, i social network, non mi permette assolutamente di demonizzarli, ma sono un'arma pericolosa per questi ragazzi che non possono e non devono sostituire l'occhio del genitore. Il ragazzo va attenzionato quando comincia a manifestare determinati segnali, l'isolamento, il calo del rendimento scolastico, il rifiuto della vita sociale e peggio ancora nell'ambito dei disturbi alimentari, quando comincia a modificare le proprie abitudini, non soltanto in senso quantitativamente restrittivo e qui penso all'anoressia per l'appunto, a questi ragazzi e ragazze, perché oggi i disturbi alimentari non sono più prerogativa, ahimè, solo del sesso femminile, ma anche di quello maschile. Quindi la restrizione quantitativa degli alimenti, ma soprattutto la restrizione qualitativa. Ragazzi che cominciano a cercare spasmodicamente la cosiddetta alimentazione sana, tra virgolette, a privarsi di nutrienti fondamentali, a mettere in atto delle condotte eliminatorie quali massacranti allenamenti sportivi o lunghe camminate o eccessiva attenzione alla propria corporeità, che non è la sana voglia di curarsi o di avere un aspetto piacente, un aspetto sano, ma è un'eccessiva attenzione al peso corporeo attraverso il quale si canalizza la rivalsa sociale. Io non sarò apprezzato se non sono sotto peso, non sarò apprezzato se non sono magro. Ecco, tutti questi stimoli uniti a quelle fragilità che sono tipiche della fase adolescenziale possono risultare molto pericolose. Ci appelliamo ai genitori non soltanto per quello che riguarda l'osservazione del figlio, ma anche per indurla a chiedere aiuto, che è sicuramente l'aspetto più difficile del paziente adolescente, che già è chiuso, già si crede adulto, già vorrebbe fare da sé e invece va guidato davvero alla scoperta di sé stessa e alla scoperta delle proprie debolezze. Dottoressa, vorrei chiudere questa intervista con un aiuto a tutti coloro che ci seguono e credono che nessuno li possa aiutare. Noi possiamo. Fondamentale, come permettevo prima, chiedere aiuto agli specialisti, cioè alle figure adeguate. Voglio citare a tal proposito un'esperienza diretta, una frase che una volta ha pronunciato una persona durante il suo percorso terapeutico ed era un paziente estremamente giovane, che ha definito la figura del terapeuta un'amica speciale. È il percorso di terapia come un sostegno fondamentale alla sua vita e agli eventi che ha dovuto affrontare durante il percorso. Vorrei che la gente superasse il senso di vergogna e superasse la paura del disagio psichico, perché il disagio si può affrontare, si può affrontare conoscendo le proprie debolezze, si può affrontare alle spalle, anzi accanto, la persona adeguata, l'operatore specializzato che accompagni nel corso della vita e accompagni nel viaggio dentro se stessi che è la psicoterapia.